Signore, ti prego abbi cura della nuova vita che è dentro la mano. Non spinga! È stato il parto più difficile. Ho un amico al quale vorrei far vedere Brenda Kay. Qui nel sud è il miglior specialista per i bambini. È affetta da mongolismo. Non dica mai più quella parola davanti a me. C'è posto per Brenda Kay in quella scuola speciale in California. L'unica per bambini eccezionali. Con Farah Fawcett, Jewel, tutto per mia figlia. Mercoledì alle 21.40. Mercoledì alle 21.40.